C'è chi invece muore troppo giovane come capitò alla nostra carissima Anna Magnani che anche lei non avrebbe mai dovuto morire, invece è morta, ci sono invece delle persone che dovrebbero morire domani mattina ma non muoiono neanche, ma non muoiono neanche se mi piangono un pugnale nella nuova, ma dei vecchi non muoiono mai, ma non muoiono mai ma potrebbero morire con la magia nera.